Ora vediamo un altro ritmo, imparando a cambiare fra l'accordo di re minore e la maggiore, facendo delle pennate, come abbiamo già spiegato, cosa sono le pennate, in giù e in su. In questo caso faremo giù e su continuamente, in questo modo. Ecco, facendo l'accordo di re minore, che ormai sapete come si fanno questi accordi, abbiamo questo tipo di pennata, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, in questo modo. Giù, su, giù, su, giù, su, giù, cambiamo a la maggiore, stessa cosa. Quindi il ritmo è... Giù, su, 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 giù. Con questo modo. Lo rifaccio. Ecco una raccomandazione per quanto riguarda l'accordo di re minore. Quando eseguite questo accordo non toccate mai la sesta corda perché non fa parte dell'accordo di re minore. Risulterebbe un derestonata. Non ci sta con l'accordo di re minore. Va bene. Alla prossima.